Benvenuti a Noi Chiesa, la trasmissione che vi racconta tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Nel decennio dedicato al grande tema dell'educazione, la Chiesa cattolica italiana vuole dedicare uno spazio particolare al mondo della scuola. Su questo si è concentrato il convegno regionale che si è svolto a Genova. L'obiettivo è stato quello di focalizzare quella che può essere la responsabilità dei cattolici nel mondo della scuola ma anche il contributo che i cattolici possono dare. Ci sono state le testimonianze di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici introdotti dal Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, delegato della conferenza episcopale Ligura, ad occuparsi proprio dei temi che riguardano la scuola. Su tutto questo vediamo il nostro servizio di apertura. La Chiesa italiana guarda al suo esterno, desidera dare il proprio apporto alla società civile in primis al mondo della scuola. Per questo a Genova si è svolto il convegno regionale che ha voluto mettere a tema la presenza dei cattolici nella scuola italiana con una considerazione preliminare. L'educazione sta a cuore alla Chiesa per la pedagogia intrinseca al Vangelo e per la sua lunga storia di ricerca e di approfondimento. Due gli atteggiamenti suggeriti, l'ascolto e la proposta. I docenti hanno avuto una traccia che riguardava alcuni punti importanti di confronto dalla presenza in ambito più generale dei cattolici nella scuola alle due occasioni importanti dell'insegnamento della religione cattolica e della scuola paritaria in cui in modo significativo la presenza cattolica dà il suo apporto educativo nella scuola. La scelta di approvare, di fare nostra la metodologia del convegno di Firenze è proprio quello di vedere in questa giornata un punto di partenza e non di arrivo che possa anche tracciare alcune linee concrete anche a supporto di quello che sarà poi il cammino della Commissione Episcopale italiana quindi anche a livello nazionale proprio su rianimare, rendere ancora più non solo visibile ma concretamente attiva la presenza dei cristiani cattolici in tutti i settori e ambienti della scuola dai dirigenti ai docenti agli alunni stessi ai genitori e a coloro che collaborano con il loro servizio alla vita della scuola. Quanto è importante oggi di fronte alle sfide educative l'alleanza tra scuole e genitori? È assolutamente fondamentale, è fondamentale perché scuola e famiglia devono assolutamente camminare insieme per dare ai ragazzi il sostegno educativo e l'istruzione necessaria per affrontare il futuro da persone responsabili e coinvolte nella società civile. Come cattolici abbiamo il titolo e la responsabilità per intervenire, ha sottolineato nell'intervento di apertura il Vescovo Alberto Tanasini, responsabile per la conferenza episcopale Ligure per la scuola, perché abbiamo una visione antropologica valida anche per la scuola laica, con un atteggiamento non arrogante né presuntuoso ma umile, perché talvolta sono gli stessi cattolici ad abdicare al loro ruolo. Come fare allora ad essere testimoni credibili? È un discorso di paternità, lo vediamo tantissimo con i nostri giovani. Il preside come padre, allora che cosa? Ascolto, sostegno, guida, mette pace, corregge. Ecco, una presenza non invasiva ma forte, forse in seconda linea, l'insegnante sa che c'è qualcuno a cui poter ricorrere, che indirizza senza coartare. Ecco, l'abate, il padre, l'abba, neotestamentario. È una sollegezione che ho ricevuto e su cui mi sto interrogando. Per quanto riguarda il rapporto con gli studenti, oggi forse il dirigente rischia più di essere un manager. Questa paternità come si esercita al di là di dire l'insegnante ti mando in presidenza, lo studente tuttora assegnato, forse non più tanto adesso, entra in presidenza. Ecco, come si può svolgere questa paternità? Ha toccato uno dei punti più divertenti del mio lavoro quando gli alunni vengono in presidenza. Ecco, lì, beh, io sono padre di numerosa famiglia, beh, lì devo dire, penso che sia importante che il preside in quel momento, ecco, abbia quelle caratteristiche che dicevo prima, una persona di autorevolezza, certo, ma vicino affettivamente al ragazzo che cerca di correggerlo richiamandola la regola, ritorno al discorso precedente, ma non come qualcosa di estrinseco, di esterno a lui che deve essere accettato in modo automatico e passivo, ma come qualcosa che lo valorizza, che lo aiuta a essere a se stesso. Spesso mi è capitato di avere questi incontri, a volte gli insegnanti si aspettavano più severità da parte mia, più lavate di capo, ecco, ma di solito questo io lo evito, è un dialogo, un ascolto, un richiamo, credo che questo possa essere un esempio di paternità. In questo senso una riflessione particolare è stata dedicata all'insegnamento della religione cattolica e alle scuole paritarie. Teniamo presente che l'obiettivo è che i ragazzi trovino la loro stada, quindi noi continuiamo a essere un riferimento, ma i ragazzi devono percorrere il loro unicissimo e personalissimo cammino con progetti di vita di largo respiro e coltivando in tutto questo un'interiorità profonda. Oggi quali sono? Emergono delle domande da parte dei ragazzi nell'insegnamento, al di là della materia che si insegna? Le domande emergono continuamente e che emergono nei posti meno opportuni e forse nei momenti meno opportuni. Stanno gli adulti a affinare quella capacità di ascolto che, ahimè, la quotidianità tende un po' a farci perdere. Attraverso la scuola possiamo dare una testimonianza, anche solo attraverso le piccole cose, i piccoli gesti che possono far stare bene i nostri compagni, i nostri coetanei, le persone con cui ci relazioniamo appunto a scuola e poi anche impegnarsi in generale in tutte le attività che la scuola ci richiede di fare, è molto importante. C'è spazio per un confronto anche con i professori costruttivo? Dipendo ovviamente da scuola a scuola e da anche il tipo di insegnante con cui ci si vuole confrontare, però penso di sì, in generale penso di sì. Sono molto aperti, essendo anche persone molto qualificate, spesso, e intelligenti, si può anche avere un confronto, si può anche attuare un confronto costruttivo con loro. Proseguono le celebrazioni dedicate al mondo del lavoro. Il Vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, sta visitando diverse realtà nel nostro territorio per la celebrazione del precetto pasquale. Recentemente c'è stata la Santa Messa che è stata celebrata nella sede del Consorzio Tassano a Casarza Ligure, proprio nel giorno in cui è arrivata una bella notizia, una nuova commessa proprio per i lavoratori del Consorzio. Vediamo. Un momento di incontro con i lavoratori del gruppo Tassano con il Vescovo in occasione del precetto pasquale. Che clima trova, Sua Eccellenza? Trovo un clima di incertezza, ma speriamo anche nel nostro tempo di fiducia, perché il lavoro non è facile trovarlo. Sono particolarmente contento perché proprio oggi iniziamo un lavoro nuovo per un cliente nuovo che è merce rara. Cosa andrete a fare? Andiamo a fare per un cliente che fa tutta una serie di prodotti per linee a casa, quindi dai feltrini da mettere sotto le seggiole ai tappi per le bottiglie, che sono da imballare, insacchettare, confezionare, inscatolare e spedire. Questo ha significato nuova occupazione comunque per le società del gruppo? Sì, questo diciamo che è un lavoro che inizia proprio oggi, abbiamo una linea pilota, quindi speriamo che la cosa possa espandersi anche con questo nuovo cliente e quindi poter garantire due o tre posti di lavoro. È partita proprio oggi la nuova commessa lavorativa affidata da una ditta di Campomorone nell'introterra di Genova ad una delle realtà che compongono il gruppo Tassano. Nel giorno della visita in fabbrica a Casazza Ligure del Vescovo Diocesano, la novità rappresenta un forte segno di speranza per una delle realtà più importanti del terzo settore. Un soggetto che ad oggi dà lavoro ad un centinaio di persone, di cui 65 soci delle cooperative che compongono tutto il gruppo e che oltre a fornire servizi al territorio, dà l'opportunità a chi vi lavora di percorrere una strada di realizzazione personale e sociale che altrimenti sarebbe molto difficile da trovare. Di qui l'importanza per il gruppo Tassano di avere il sostegno di tutto il territorio del Tiguglio nel quale opera ormai da decenni con l'affidamento di nuovi lavori, per rispondere concretamente a quell'appello che lo stesso Papa Francesco ha ribadito di recente di riscoprire la vocazione al lavoro, senso alto di un impegno che va oltre il risultato economico. Non è facile trovare nuove commesse, la crisi comunque sta ancora facendo sentire i suoi effetti. Sì, assolutamente sì. Il fatto di averne trovato uno nuovo, ripeto, è una cosa straordinaria perché ci capita una volta ogni 3-4 anni circa e quindi da qua viene anche la speranza. Qual è il valore aggiunto di dare lavoro comunque a queste persone? Il valore aggiunto di dare lavoro a queste persone. Sono persone che tante, direi forse tutte, me compreso, non so quante chance avrebbero oggi di trovare qualche occupazione e il lavoro è quello che dà dignità alla persona. L'ho detto lo stesso Puntefice comunque ricordandolo che l'uomo ha necessità di lavorare. Assolutamente sì. E qui si vive ogni giorno, si sperimenta? Tutti i giorni è una battaglia. Lo scopo delle nostre imprese, che sono imprese sociali, è proprio quello di creare opportunità di lavoro per le persone. Lo scopo mutualistico è proprio questo il senso che anche oggi insieme al nostro Vescovo abbiamo, davanti al quale ci siamo nuovamente trovati. È questa la riflessione. Le nostre imprese, sì, danno una risposta alla comunità in termini di servizi, siamo vicini alla popolazione, ai giovani, agli anziani, ai bambini, alle famiglie, portando servizi concreti. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che davvero lo scopo è quello di creare opportunità di lavoro per i soci delle nostre cooperative, dalle persone più fragili alle persone più capaci, anche con la loro professionalità, di aiutare gli altri, gli altri colleghi, gli altri soci, per crescere insieme. Il Vescovo, anche prendendo uno spunto dal Vangelo, ha sottolineato l'importanza di fare il proprio lavoro bene, quotidianamente, e da qui nascono le grandi opere che si rivolgono al Padre. In cooperativa è proprio questo che accade. Ciascuno apporta il proprio contributo. E il contributo di tutti è importante. La cooperativa non è la somma delle caratteristiche di ciascuno o delle necessità di ciascuno. In cooperativa si realizza, se è davvero una cooperativa, e soprattutto sociale come le nostre, si realizza quella sintesi tra i bisogni di tutti, le capacità di tutti e anche le motivazioni e gli obiettivi di tutti. La festa della Madonna della Rosa a Santa Margherita Ligure è sicuramente uno dei momenti principali della vita della comunità centrale della città di Santa Margherita Ligure. La parrocchia si è riunita per celebrare la patrona con alcuni momenti particolari di vita di comunità, perché l'obiettivo quest'anno è stato proprio quello di sottolineare la vita della comunità nella celebrazione della festa. Vediamo. Maria, immagine della Chiesa, della comunità cristiana che si ritrova nella gioia. Monsignor Alberto Tanasini ha proposto questa sottolineatura celebrando l'Eucarestia nella festa patronale della Madonna della Rosa nella Basilica Santuario di Santa Margherita Ligure, un tema che è stato approfondito lungo tutto il tempo di preparazione e nei giorni della festa. L'immagine della Gerusalemme e la città santa deve essere impressa nella nostra comunità, quell'immagine che ci ha proposto il brano dell'Apocalisse. E Maria è il prototipo della Gerusalemme del cielo, è il prototipo nella sua bellezza, quella bellezza che è richiamata dalla rosa di Gerico. Ci ricorda che la nostra comunità deve essere bella, bella, rivestita di sole, ancora l'immagine dell'Apocalisse, luminosa dunque. Non escludiamo la bellezza dall'esperienza di vita della nostra comunità. Il significato di questa festa, almeno quello che abbiamo voluto sottolineare quest'anno in particolare, è quello nella nostra patrona di ritrovarci come comunità. Maria, Madonna della Rosa, ecco lei che è madre del nostro essere qui, chiesa, in questa città, in questa parrocchia. E allora abbiamo voluto, sia nella novena di preparazione che poi nella festa, proprio ritrovare il senso bello e forte di cosa significa essere comunità. Certamente i giorni della preparazione che ci hanno un po' portato a riflettere sulla grazia di essere comunità, la gioia di essere comunità, ma anche la fatica, il pericolo che vogliamo evitare, e infine la missione di essere comunità, lo ritengo un cammino importante. Poi certamente ieri, il giorno nel quale abbiamo messo l'immagine della Madonna della Rosa, con tutti i bambini che hanno offerto i fiori, poi oggi la presenza del Vescovo nella celebrazione dell'Eucaristia. E poi oggi pomeriggio la processione è un momento di festa, di cena insieme, proprio per sottolineare la gioia di appartenere alla comunità. Per i sanmargheritesi della parrocchia centrale, la festa della Madonna della Rosa è un momento speciale, vissuto con la tenerezza dello stare assieme con l'affetto dei figli che si ritrovano attorno alla madre. Da sempre, da quando sono bambino, non ho mai saltato una volta la festa della Madonna della Rosa, ancora con i miei nonni, con mia nonna, i miei genitori, siamo sempre stati molto allegati a Santa Margherita, alla Chiesa e soprattutto alla Madonna della Rosa. Siamo devoti, se possiamo facciamo anche la novena in preparazione. Quest'anno è stata particolarmente interessante, importante, per dare il senso proprio della collettività, della comunità sanmargheritese. Sono contento personalmente della presenza del Vescovo. Era un po' di anni che mancava, viene per Santa Margherita, ma non per la Madonna della Rosa. Quest'anno, fortunatamente, siamo gioiosi di averlo con noi, di averlo avuto con noi. Per noi nella parrocchia questa è la festa, possiamo dire, quasi tra le più sentite. Vogliamo anche, appunto, anche quest'anno abbiamo rilanciato un po' questa festa, anche come festa della comunità e abbiamo voluto fare dei momenti gioiosi di festa. Infatti, ieri per la consegna delle rose con i bambini c'è stato un momento di gioco fuori dalla chiesa e dopo la processione ci sarà anche una cena tutti insieme, per stare un po' insieme. Durante la celebrazione le rose vengono benedette e al termine della processione, nel pomeriggio, distribuite a tutti e portate in particolare alle persone anziane ed ammalate. I primi che si sono ritrovati attorno a Maria sono stati bambini. Per sottolineare lo stare assieme come comunità, al termine della consegna delle rose c'è stato sul Sagrato un momento di festa. Tutti avevano una rosa in mano e Don Gian ha benedetto le rose. Abbiamo fatto sul Sagrato della chiesa, abbiamo fatto la merenda, bevendo e mangiando, e poi abbiamo fatto varie danze, diverse tipi, abbiamo fatto varie danze nostre tipiche. L'Ucraina, lo sappiamo, sta vivendo un momento di grave difficoltà con la guerra che continua ad essere combattuta sul suo territorio e la sofferenza che questo provoca alla popolazione. Recentemente in tutte le chiese d'Europa si è svolta la colletta per sostenere gli aiuti alla popolazione e i cattolici di rito bizantino, la comunità ucraina del Levante Ligure, si è radunata proprio domenica scorsa per celebrare la Pasqua secondo il calendario giuliano. C'eravamo anche noi, vediamo. La comunità ucraina di rito bizantino ha celebrato la Pasqua in una data differita rispetto alle comunità cattoliche di rito latino, in quanto in questo caso si segue il calendario giuliano, quindi la Pasqua cade proprio adesso. Qual è il significato di questa celebrazione che avete fatto? Rivivere il momento della vita di Gesù, della sua sofferenza e anche della gioia che il padre ha voluto sacrificare proprio figlio, ma anche ha voluto che il figlio avesse la vita. È un dono per noi cristiani perché noi possiamo guardare le sofferenze di Cristo e vedere che lui ci capisce, capisce tutte le nostre sofferenze, ma poi lui apre una perspettiva perché c'è la speranza che dopo la morte, dopo la sofferenza, aspetta la risurrezione e la gioia. Quest'anno avete messo alcune intenzioni di preghiera particolari legate anche al vostro Paese? Sì, già non soltanto in questa celebrazione ma dal periodo quando nel nostro Paese è stata questa difficoltà, direi. Allora i nostri Vescovi hanno pregato, i sacerdoti e tutto il popolo di inserire intenzioni particolari, sia per la pace che per i militari che per la gente che ha sofferto dalla guerra. Speriamo che il Signore ci ascolti, abbiamo fatto tanti sacrifici, tanti preghieraggi, tante preghiere e continuiamo sempre in questa speranza che finisca in qualche giorno tutto questo che è stato fatto senza il nostro volere, senza la nostra intenzione. Desideriamo tanto la pace e preghiamo per questa pace e la auguriamo a tutti quanti. Al termine della celebrazione lei ha benedetto i cibi pasquali. Qual è il significato di questo gesto? Quali sono questi alimenti che vengono ottenuti per la Pasqua? Abbiamo ancora mantenuto la tradizione di tenere astinenza dai certi cibi derivati dai animali e allora... Questo per tutta la Quaresima? Sì, per tutta la Quaresima dovrebbe essere. Chi ha potuto? Perché siccome noi siamo lontani dal nostro contesto, dal nostro paese, siamo qui in Italia, a volte non capiscono, a volte giudicano, a volte criticano anche, perché dicono che non è importante, ma per la nostra tradizione è importante, per la nostra cultura è importante, perché siamo abituati a questo sentimento di fare un sacrificio. Un piccolo sacrificio, perché è un periodo che non è lungo, 40 giorni, ma questo sacrificio ci aiuta a superare queste tentazioni che possiamo avere durante tutto l'anno. Questo sacrificio potrebbe essere un segno di amore verso il prossimo, perché quando noi facciamo astinenza, tutto quello che abbiamo risparmiato dobbiamo dare ai poveri, dobbiamo dare alle persone che si trovano in una difficoltà. Allora un aiuto, una solidarietà reciproca, soprattutto in questo anno della misericordia. La comunità ha fatto questo bellissimo percorso spirituale per tutta la Quaresima, sia giovani che bambini che adulti, facevamo queste opere della misericordia. Allora in questo punto astinenza si capisce ancora di più. E questi alimenti, da dopo la benedizione, possono essere consumati per la festa della Pasqua? Tutto legato a questa tradizione, che la Chiesa benedice per la Quaresima. Io ben dico di tenere questa astinenza, perché la gente mi chiede, non è che io obbligo, ma la gente mi chiede questa benedizione. Allora finita la Quaresima, mi chiede di nuovo una benedizione, per l'uso dei cibi che non potevano usare durante la Quaresima. Nel sentimento dei orientali c'è sempre questa mentalità legata al chiedere, chiedere la benedizione. È una spiritualità, un segno di fede legato, che tutto deve essere benedetto da Dio, sia a tenersi, sia a ricevere. Per questa celebrazione della Pasqua, qui a Cavari, sono confluiti tutti i componenti o quasi tutti i componenti della comunità ucraina del Tiguglio? Sono contento, perché soprattutto nel giorno di Pasqua e anche nei altri momenti di festa posso vedere le persone che enormemente non posso vedere al sabato, perché loro lavorano, hanno altri impegni, ma nei momenti festivi, così molto forti, per noi la Pasqua è la festa delle feste, allora posso vedere queste persone che arrivano anche dalla Spezia, si arrivano da Rapallo, arrivano da Recco, oggi c'erano le persone, e anche di altre nazionalità, Moldavi, Russi, Belorussi, e sono contento di vederli. Ci sono altre nazioni che poi verranno a Genova, a Savona. Lei ha già accennato alle difficoltà che ci sono in Ucraina in questo momento, gli ucraini che stanno qui in Italia vivono con apprensione la situazione della loro patria? Non è facile, non è facile gioire, non è facile essere lontani, perché le notizie che riceviamo non danno tanta speranza. Le notizie che possiamo avere tutti i giorni, quasi tutti i giorni abbiamo le notizie della morte e delle ferite. Ci dispiace tanto, perché il popolo veramente sente una difficoltà, perché da un lato vuole gioire, vuole dare la gioia ad altri, ma dall'altro lato capisce che gioire in questo momento del dolore, quando qualcuno piange, non è tanto facile. Per questo motivo il popolo sta soffrendo ancora di più, per dire. Comunque speriamo che tutto finisca. Si è concluso in seminario a Chiavari il minicorso Educare che passione, che è stato dedicato alle persone impegnate nel campo dell'educazione, nelle comunità, nelle parrocchie, nei movimenti della nostra diocesi. Vediamo com'è andata. Un incontro con gli educatori della diocesi di Chiavari per risvegliare la passione dell'educare. Come stare con i giovani oggi, in un tempo in cui le esigenze e le domande dei ragazzi stanno cambiando notevolmente? Allora, certamente il cambiamento è grande, si fa sentire. ciò che è davvero importante credo sia quello di riuscire a trovare i linguaggi, i linguaggi giusti per arrivare al cuore di questi ragazzi. Spesso il limite è che anche parlando di Gesù, del Vangelo, provando appunto a testimoniare quello che è il nostro compito, il problema spesso è dire cose, dire parole, dire ma che non riescono ad arrivare. E quindi la sfida è proprio quella di stare con loro, capire con loro, capire che cosa hanno da dire, capire il loro modo di pensare, il loro modo di vedere le cose e tradurre in questo linguaggio quello che appunto è il messaggio del Vangelo. Questo potrei dire in sintesi. E nella tua esperienza che cosa di più hai visto che colpisce i ragazzi quando tu stai insieme a loro, da che cosa soprattutto vengono colpiti? Allora io credo che al di là degli incontri che si fanno, al di là di quelli che sono i momenti più strutturati, quello che importa davvero poi è il tempo speso con loro, il tempo gratis, il tempo informale dove appunto si sta con i ragazzi, si ascoltano, si passa del tempo insieme e appunto nella relazione che si costruisce poi passa la grandissima parte di quello che si cerca di dire. Certo servono anche poi dei momenti nel quale si riprendono, dei momenti nel quale si danno anche dei contenuti, però da soli non bastano, serve proprio inserire tutto in una relazione, in un accompagnamento, in una relazione di fiducia con questi ragazzi. Il desiderio che vi aveva mosso nell'organizzare questo ciclo di incontri era quello di risvegliare la passione dell'educare. Come è andata? Direi che abbiamo risvegliato questa passione in diversi educatori, soprattutto in un periodo dell'anno che da un certo punto di vista serve per tirare fuori le ultime energie dell'anno pastorale e per essere già rivolti verso l'estate con idee, creatività, ma soprattutto partendo da un grande legame con la parola del Signore. Che cosa ti ha colpito, che cosa l'ha colpita particolarmente delle relazioni che ascoltate? Direi soprattutto che i relatori ci hanno richiamato che questa passione educativa nasce da una fede in Gesù Cristo. Ecco, questo non cerchiamo tecniche o altri espedienti, ma partiamo da lì, sempre partendo da lì e dando un giudizio sulla realtà a partire dalla parola che il Signore ci rivolge ogni giorno. Domenica 8 maggio, solennità dell'ascensione, alle 18, durante la Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il Vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, conferirà il Ministero di Accolito a Stefano Bruzzone della parrocchia di San Colombano della Costa, San Salvatore di Cogorno, a Salvatore Bizzimana della parrocchia di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure e a Paolo Nicora della parrocchia di Santo Stefano a Lavagna. Durante la celebrazione il Vescovo conferirà il Ministero di Lettore ad Alessandro Cavallo della parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. Stefano Limini verrà ordinato sacerdote il prossimo 15 maggio, solennità della Pentecoste. Il seminarista, originario della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, riceverà l'ordinazione presbiterale per l'imposizione delle mani del Vescovo alle 15.30 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Ordinato diacono lo scorso 8 dicembre, nella solennità dell'Immacolata Concezione, Limini sta prestando servizio nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna, dove celebrerà la prima messa lunedì 16 maggio alle 21. Originario di Rapallo, Stefano Gianluca Limini, ha 50 anni ed è laureato in Ingegneria Elettronica. È entrato in seminario nel 2011. In precedenza, per molti anni, ha lavorato a Roma in una multinazionale nel settore dei servizi alle aziende per le telecomunicazioni. In entrambi i casi, sia nella messa per la solennità dell'ascensione, il prossimo 8 maggio, che la Santa Messa che sarà celebrata in occasione della solennità della Pentecoste con l'ordinazione di Stefano Limini, potrete seguire la diretta su Telepace 1 al canale 15. Domenica sarà inaugurato il piazzale di Chiesa Nuova a Nè davanti alla chiesa parrocchiale. L'opera è stata realizzata dalla parrocchia con il contributo ed il supporto dell'amministrazione comunale. Ci sarà una semplice cerimonia di inaugurazione che avrà inizio alle 10, sarà presente il Vescovo, che alle 10.30 celebrerà la Santa Messa, durante la quale sarà conferito il sacramento della confermazione ai ragazzi della Val Graveglia. Ogni anno, a primavera, le numerose confraternite della regione ecclesiastica della Liguria programmano il loro raduno, che domenica prossima si terrà nella Diocesi della Spezia ed in particolare a Lerici. Il raduno è in programma a partire dalle 7.30, alle 9.15 il saluto delle autorità e poi, a partire dalle 9.30, ci sarà la Santa Messa, che sarà celebrata dal Vescovo della Spezia, Luigi Ernesto Palletti. Al termine si snoderà la solenne processione per le vie del paese di Lerici. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiese, al nostro viaggio di approfondimento, alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.